Senatore Gaetano Quagliarello, leader di IDEA che assieme a DC e UDC ha composto una lista che non ha avuto una partenza facile in questi giorni a sostegno del candidato presidente Marco Marsiglio. Qual è il destino di questa lista e soprattutto quali sono gli atteggiamenti e comportamenti che terranno i candidati in Abruzzo? L'inizio è stato difficile, però è stato anche un tributo che si è pagato alla verità. La politica non può essere un gioco di palazzo, non può essere l'introduzione di un nome al posto di un altro di notte e questo è stato sanzionato nel modo più chiaro e netto possibile dal presidente Marsiglio e noi pensiamo che abbia fatto bene. Ora però c'è la campagna elettorale. Ci sono tanti candidati di IDEA in questa lista che sono partelesa e che corrono in buona fede in difesa dei principi cristiani e liberali. Dunque da ora si parte con la campagna elettorale, ho parlato col presidente Marsiglio, questi candidati avranno piena legittimità e il loro simbolo, anche perché rappresentano una parte importante della storia abruzzese. L'Abruzzo ha un grande passato che un po' è stato offuscato dal manovrismo, quello che ha ammazzato anche l'ultima legislatura. Separiamo quel passato dal manovrismo e diamo credito e forza a chi vuole non fare polemiche ma operare per il bene di questa regione. In particolare nella circoscrizione provinciale dell'Aquila, l'indicazione che avete fornito a coloro che proprio non digeriscono gli strascichi di questa operazione è quella di comunque sostenere il presidente Marsiglio. Votare Marsiglio, votare il centrodestra, il centrodestra vincerà questa campagna elettorale e si qualificherà per metodi di governo differenti. Io credo che uno dei problemi che ha avuto l'ultima giunta regionale è stata un eccesso di manovre. È necessario tornare a comportamenti lineari anche perché, vede, non sono più i tempi. La politica sopporta soltanto chiarezza e linearità.